Mentre il fumo del fuoco saliva, oltre i mucchi di paglia e l'estate, appoggiavo lo sguardo sul fiume. È la rossa che chiama la lupa, e la lupa regala il pianeta della fortuna, e quel fumo saliva, saliva alla luna. Inizia la settimana delle anteprime del vino, il primo appuntamento Chianti Lovers e Morellino di Scansano in programma alla Fortezza d'Abbasso a Firenze, a cui potranno partecipare anche i non addetti ai lavori. Una settimana per scoprire e conoscere il vino, le nuove annate, a dare il via alle degustazioni e prima anteprima, quest'anno con una madrina d'eccezione Gianna Nannini in veste di viticoltore. Sono cresciuta dai 9 ai 18 anni in campagna, quindi nella tenuta che era dei miei genitori e che era la certosa a bel riguardo, dove io sono nata con i contadini, crescevo con i contadini mezzati che abitavano lì, senza sapere che erano mezzati, c'erano le classi sociali, non si capiva da piccoli. E soprattutto partecipavo al rituale della vendemmia che avveniva con i carli, con le cose, con i canti, e io le prime canzoni le scrivevo scappando proprio col motorino in mezzo alle zolle. Questa è proprio una realtà vera, scrivevo queste canzoni un po' da cantautrice, da sola, capito? Quindi io appartengo a questa terra, capito? Perché mi è entrata dentro e quando ho potuto farlo, nel 2000, ho rilevato l'azienda. Credo che il mio pensiero sul vino vada ora, prossimi 50 anni, i nostri investimenti, pensiamo a quello, non solo a berlo.